E' chiaro che nessuno è profeta in patria, quindi questo accordo lo dimostra perché io devo dire che in questi anni ancora vedo portato tanto, ha preso anche a chiave, ha preso anche a chiave perché tanti dittori mondiali, per esempio le quattro medaglie olimpiche, non è stato riconosciuto come invece forse oggi, quindi la cosa per me è già una situazione anche solo per quello che è stato passato. E' chiaro che adesso la sfida è cercare di portare qualcosa di più, non sarà facile perché è un'olimpiade tutti ti aspettano, sono tutti concentrati per cercare di vincere, ci sono solo tre medaglie, soprattutto una sola più bella e ci arrivo con dei favoriti del pronostico che a volte sono vantaggi, a volte no, e quindi vediamo. Certo, dal mio c'è sicuramente un'esperienza maggiore perché tra la terza olimpiade sicuramente rispetto alla prima, io mi ricordo la mia prima c'era arrivato molto agitato, molto preoccupato e facendo anche tanti piccoli errori non sempre da parte mia comunque, di mio staff o di chi mi seguiva.